Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo buonissimo video Vi ricordo di lasciare un bel like e buona visione E iscrivetevi al canale Allora, questo è la trattata dell'ultima volta Se non sbaglio Quindi direi di uscire Ah, bene E' del tempo c'è fuori Questo? Tutto è qui Ciao Ci credi Ovviamente andare a mettere a posto le robe Cosa è successo? Ok, non facciamo domande Sta diventando donno A chiare la Blood Moon Vai 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 Via guardate ci sono i metafeti quella roba cos'è? no, pensiamo questo non posso perdere non c'è non c'è di metafeti ok andiamo liberando la spazio non c'è 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 rouse tomorrow David della roba ok il tuo stand proviamo a dar questo non ha fatto niente ma che ci danno arriva così è meglio Il ratti block è presa con me, lo vogliamo rompere e vediamo Ok, lo abbiamo preso Gagli? ... ... ... ... ... ... Ma non ho così Ma non ho così E' un altro che mi ha già Ok Ok Fiamolo un po' di tutti uh-huh ok un buon come che ti dice? Non c'è mai? andiamo lupo andiamo lupo qui è cambiato qualcosa ecco meglio lo teniamo qui è è è è è è Prossima idea Ok, basta così però qui Quindi spero che questo episodio vi è stato tutto E arrivederci Grazie Grazie